Ciao ragazzi, sono Roger Argentina e il giorno di oggi siamo con un nuovo video per il canale e il giorno di oggi siamo con la mia amica Ciao ragazzi! e il giorno di oggi siamo per fare una sfida che è proprio bravo e si tratterà che lei mi deve truccare a me e lui deve sopportare il mio fratello in brazzo lasciarlo su Instagram giù in descrizione così se volete e commentate cose brutte allora ciao 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 che non siete iscritti e viaggiano su Instagram un giù di inscrizione così le seguite e vedete cose belle e ci vediamo alla prossima, bye! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!